buongiorno oggi cuciniamo zuppa alla tremolese ricetta tipica del molise per questa ricetta utilizzeremo brodo granulare di pesce bauer inseriamo il nostro granulare all'interno della pentola con l'acqua portata a riscaldare poi passiamo a conoscere gli ingredienti della ricetta per questa ricetta utilizzeremo olio extravergine di oliva aglio peperoncino peperoni pomodoro mix di pesce della pasta precedentemente fatta cuocere prezzemolo e un pesto di olive iniziamo la ricetta versando l'olio inseriamo l'aglio peperoncino i peperoni lasciamo appassire per qualche minuto a questo punto aggiungiamo il pomodoro profumiamo con un po di vino bianco aggiungiamo il pesce facciamo sobollire per qualche minuto e poi possiamo proseguire con il brodo procediamo con la cottura ultimata la cottura possiamo inserire la nostra zuppa nel piatto proseguiamo inserendo la pasta il pesto di olive ed infine una spruzzata di prezzemolo ed il piatto è pronto come tocco finale vi consiglio del brodo emulsionato adesso vediamo 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 Grazie a tutti.